Io avevo una mamma che lavorava alla mensa aziendale, di conseguenza quando avevo possibilità di scendere un attimo in cucina a trovarla, andavo volentieri e lì poi mi hanno conosciuto un po' tutti, sia gli operai che gli impiegati, quelli del personale anche, e poi quando è stato il momento dei 14 anni, perché io purtroppo non ho potuto studiare, perché sono rimasto orfano di guerra a tre mesi e ho fatto il boccia a 11 anni e mezzo, sino a 14 anni quando sono entrato alla Piaggio e c'era il capo del personale che conosceva la mamma e gli ha detto guarda quando il ragazzo compie i 14 anni mi hanno detto che non c'era molto lavoro, perciò servivano giovani e difatti ho compiuto gli anni il 10 di febbraio del 57 e il 4 di marzo sono su questo entrato praticamente. Mi ricordo che sono entrato e avevo i pantaloncini corti con le scarpe da tennis e come tutti i ragazzi all'inizio ti mettero a fare i lavori, sono entrato anch'io nell'hangar perché era forse il periodo che c'era più bisogno come mano d'opera e mi era affiancato una bravissima persona che io conoscevo già, che era un montatore motorista e che mi ha dato una bella dritta per il primo anno e poi lui è andato in Germania per la Piaggio, io sono stato un anno a Villanova a fare il garzone anche lì a un altro motorista perciò i motori avevo già iniziato il mio discorso futuro, senza volerlo però il vantaggio della Piaggio era un po' questo che non lo faceva a caso a spostare i ragazzi da un reparto all'altro, lo faceva per farle conoscere un po' tutto l'ambiente della Piaggio, anche se uno poteva, non c'era la necessità di produrre molto, c'era la possibilità di creare forse anche inconsciamente dei buoni operai e allora si girava un po' da un reparto all'altro e io devo dire grazie a questo perché abbiamo girato un po' diversi reparti e ho imparato a fare un po' tante cose e come le dicevo prima poi quando sono stato in grado di poter operare da solo mi hanno dato quella famosa cassetta piena di ferri e di martelli, lime senza manici e io dovevo capire come si faceva a mettere, a infilare il manico nel martello nella lima e lì era già un inizio di… loro capivano se eri già bravo o non eri bravo già, avevi già imparato qualche cosa, comunque il girare per me è stato importantissimo e poi quando ho iniziato proprio a poter essere indipendente so che sono entrato al reparto motori e no all'inizio all'inizio si costruivano le code dei Fiat G91 per la Fiat Avio di Torino e anche lì sono stato un anno due, so che si lavorava dalle sette a mezzogiorno, dall'uno e mezza alle sette, dalle otto a mezzanotte, abbiamo fatto quattordici ore al giorno per diverso tempo e pensate che le code a Torino, ne costruivamo mai tante, che a Torino non riuscivano più a metterle orizzontali ma non le mettevano verticali perché non sapevano dove metterle e questa è stata l'esperienza del C91. Poi ho iniziato veramente il lavoro vero e proprio, sono entrato al reparto motori dove c'erano ancora gli ultimi motori a pistoni e ho lavorato, ho cominciato a montare i motori a pistoni per il P166 che era un aereo costruito sempre in piaggio e poi è stata all'inizio la nuova era dei motori a reazione, era un reparto vicino nel motore a pistoni, abbiamo iniziato a montare il primo aereo a reazione, eravamo un gruppo di pochissimi che abbiamo iniziato a montare il primo motori a reazione costruito in piaggio, su licenza naturalmente a Roll Royce perché non eravamo licenziatari. Malgrado che fosse stato il primo a detta di tutti è stato montato meglio che gli inglesi sono rimasti, perché il nostro dopo le prove di test dalla sala prova è riuscito a girare, aveva fatto non mi ricordo bene se 350-400 ore filate, di ore filate, perciò non era successo niente per 400 ore e anche gli inglesi sono rimasti un po', non pensavano che noi riuscissimo a… perché tutte le parti che sono dentro al motore sono specialmente nel motore a reazione, anche nei motori a pistoni sicuramente, ma al motore a reazione si parla di centesimi, il micro, quando si… a volte si… per esempio dove lavorava prima Caffarena era un ambiente che doveva stare entro i 20-22 gradi, perché altrimenti uno spinotto dentro un foro se c'era una temperatura diversa era facile che non c'entrasse oppure che ci ballasse all'interno di questo foro, era tanto piccola la tolleranza che… però c'era un lavoro molto di precisione e allora abbiamo iniziato con questo vai per 11 che come diceva prima Aldo, però c'erano delle difficoltà perché noi guardavamo i manuali inglesi, però c'erano delle cose che non ci riuscivano, non ci riuscivano a montare come montaggio, allora eravamo stati in un primo tempo, eravamo andati in Inghilterra a loro Royce a vedere come facevano loro e certo loro scrivevano un modo, però anche loro poi aggiustavano un po' le cose e allora quando ci siamo resi conto di come fanno, allora anche noi siamo riusciti a fare questo. Però poi dai Valper 11 sono venuti i Viper, i motori a reazione più potenti, abbiamo fatto il Viper 540 per il Brasile e il famoso 632, Viper 632 per la pattuglia acrobatica il quale io ero responsabile di tutta la linea dei motori a reazione. Praticamente io devo dire che sono contentissimo di essere stato alla Piaggio perché mi ha fatto crescere, sia come operaio perché io avendo potuto studiare, come vi ho detto all'inizio, bastava un perito aeronautico che si affiancazza a me, mi mangiavano 10 minuti, invece con l'esperienza di tanti anni. Ogni pezzo che va su un motore a reazione viene controllato da quando è grezzo sino alla fine, ma non un controllo. C'è una scheda lunga, non so, un pezzo un po' complesso, una scheda che non finisce più, no? Un controllo, un collaudo, una fresatura, una foratura, un collaudo e non si chiude uno sportello, un coperchio, se prima non lo guardo io, poi non viene un'altra persona, non lo guarda anche lui per vedere che sia tutto chiuso, tutto frenato, tutto tarato, capisci? Un pezzo viene controllato i raggi, i liquidi penetranti, cioè quando dicono che è più sicuro l'aereo di una macchina è vero perché non ci può essere errore. Bisognava fare un po' l'aeronautico nazionale, prima di tutto, no? Lasciando un po' perdere quelli che erano, come posso dire, come il Piaggio, come fosse la Ferrari, no? È chiaro che fondere la Piaggio con la Hermacchi si sarebbe perso un po' di prestigio, no? Però unire le forze nei momenti, cioè i dirigenti dovevano, secondo me, capire che era momento di unire un attimo le forze per poter riuscire a intervenire all'estero, capisci? Perché un pezzo… cioè la Piaggio non poteva fare tutto, cioè prima di… All'inizio si costruiva il 50% di un motore, no? Poi piano piano, piano piano, piano piano sono venute delle aziende… Faccio un esempio, noi eravamo bravissime nelle saldature, di mettere assieme i pezzi delle saldature. Poi è uscita una ditta che praticamente lei metteva assieme 5 o 6 pezzi, il pezzo non si allungava nemmeno di un cappello perché rimanevano fermo, la temperatura non le faceva allungare, no? Invece noi non avevamo con l'attrezzatura lì, perciò più tempo passava e più le tecniche stavano migliorando, perciò non si poteva comprare per esempio una macchina per fare quei pezzi lì o la varniciatura, c'erano degli anelli all'interno del motore che assorbivano l'umidità e quella pittura lì che veniva spruzzata, raccontavano, ora non ricordo bene, come comunque poteva esplodere, no? Ci voleva una camera speciale, ci volevano, capisce, tutti strumenti particolari e piano piano si sono abbandonate, bisognava prendere questi pezzi e portarli all'estero, piano piano si perdeva un po' tutto, invece se c'era un polo aeronautico forte forse si riusciva anche a comprare queste macchine qua. Che ci ha dato da mangiare a tutti? Questo sì, è vero, che i soldi li prendevamo forse un giorno prima che un giorno dopo, e questo è anche vero, che la Piaggia non ha mai licenziato nessuno, anche a volte si faceva qualche cosa, però non ha mai licenziato nessuno, era una sicurezza, capisce? Una persona sapeva che comunque c'era, io parlo, non è il tempo della crisi di adesso, ma al tempo che ero entrato io, la gente entrava, usciva, insomma c'era uno scambio molto, perciò era una sicurezza, una famiglia poteva dire, ok, io sono sicuro che per 40 anni io lavoro in Piaggia, no? E la moglie poteva fare un altro lavoro e si potevano formare una famiglia, comprarsene una casa, capisce? E poi ha dato la possibilità anche persone come me che non avevano mai, che non hanno potuto studiare, di diventare un qualcosa, non dico che ero capo squadra, però insomma dalla quinta elementare ad arrivare a capo squadra per me è stato, ho girato il mondo, grazie a Dio mi ha fatto girare, sono stato in Sudafrica, sono stato in Inghilterra, ho girato l'Italia sempre per sostituire dei pezzi sul motore, perciò io devo esserle grato alla Piaggia per questo. Per il bene di finale è chiaro che un'altra Piaggia non ci potrà più essere come fabbrica, però secondo me le aziende fanno un errore, la classe dirigente ad alto livello, loro probabilmente meglio di noi sanno quando arriva la crisi, quando le tendenze, di conseguenza dovrebbero preoccuparsi di fare dei cambiamenti, io non dico di fare delle pentole, perché sì che avevamo delle preste che potevamo fare anche delle pentole, però ci sono delle similitudini, io non dico i drone di adesso, però montare degli accessori, montare delle, costruire dei pezzi similari a quello che potrebbe essere un pezzo di aereo, un pezzo di motore, in Italia o anche all'estero ci sono delle parti simili con precisione e con caratteristiche che noi le avevamo, anche se, come le dicevo prima, per acquisire una mentalità aeronautica a me non mi è bastata una vita alla Piaggio, però se fossi stato un dirigente avrei pensato, prima per esempio quando al reparto macchine c'erano 50 frese, 50 torni, 100 trapani, in 4 e 4 e 8 sono arrivate 4 macchine e 5 a controllo numerico, pensi che c'erano 200 persone, 20 persone, hanno fatto tutto tutto, però prima di fare questo bisognava, io penso che non si fa dalla sera alla mattina questo di cosa qua, capisci? Si fa con il tempo, perciò si doveva preparare la gente a imparare un altro lavoro, un altro lavoro, imparare qualche altra cosa, capisci? E come sapere cosa fare lì adesso, lì, poi fra l'altro lì è una zona che è bruttissima come per costruire delle case o delle… perché io non ci andrei mai ad abitare, si potrebbe andare ad abitare anche lì se non ci sono le possibilità, però non è un posto da costruire, delle case lì sotto, sotto la caprazoppa così. E l'aria buona sarebbe appunto Villanova, perché lì c'è lo spazio, c'è l'aeroporto, perché noi, se vi ricordate, si montavano gli aerei, si provavano in hangar e si smontavano e si rimontavano di nuovo a Villanova, capisci? Era un lavoro enorme, ricordo che i camion partivano con l'aereo sopra, li portavano a Villanova e lì si rimontavano di nuovo. Adesso dal lato pratico, una volta che è stato giù i capannoni, più che, non so, farsi delle scuole, non so, delle strutture che siano vivibili però nel medesimo tempo, tipo, non so, una scuola che ci stai quelle quattro ore e poi poi vai via, ecco, non da abitarci proprio… oppure dei centri di studio… Grazie. 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 Grazie.